Io sono Lana Cleland, ho 28 anni, sono scozzese e vengo da Firenze. Mi ho giocato in Scozia a breve, poi a Tavagnacco e poi anche nella Fiorentina. Nel 2016-2017 ho vinto il capo caniere della Serie A con 23 gol. Nell'ultimo periodo ho sofferto un po' con le infortuni, quindi spero il prossimo anno di ritornare a fare tanti gol. Sì, in carriera ho fatto più di 100 gol. Queste prime due settimane stanno andando alla grande. È una squadra molto giovane, quindi sento un po' vecchia, però spero di portare un po' di esperienza. È un bellissimo gruppo, molto come una famiglia qui, quindi sono contenta di non vedere l'ora che cominciano le partite. Mi piace come allenatore, molto con la palla e tanti partiti, quindi come giocatrice è quella che preferisce fare, quindi sono molto soddisfatta. Il Sassuolo da fuori, come società, è vissuto come una famiglia. È una società un pochino più piccola in confronto a quella che era abituata a Firenze, però tutti si conoscono tutti, quindi è molto piacevole come società. È sempre stata una battaglia giocare contro questa squadra, quindi sapendo di incontrare tanti giocatrici di livello. Sì, è una bella società, come l'ho detto, e non vedo l'ora di cominciare. Come personale vorrei tornare alla lana che conosco io, che magari conosce o si ricorda anche alcune altre. Quindi, come l'ho detto prima, di trovare i gol, di aiutare la squadra e tenere line alt dove hanno finito l'anno scorso, perché hanno meritato il terzo posto e anche magari qualcosa in più, quindi cerchiamo di sempre migliorare dall'anno passato. Conoscevo già qualcuno, quindi è sinceramente molto più faccia entrare in gruppo quando la conosci già qualcuno. Mi trovo bene, è un gruppo molto giovane, come l'ho detto, però non c'è questa differenza di gruppi, fra magari stranieri o età, quindi è tutto molto unito e sì, mi trovo veramente bene. Mancava tanto al pubblico l'anno scorso, quindi non vedo l'ora di ritrovare questo nuovo tifoso per me. E sì, di giocare e di trovare il gruppo, una cosa in allenamento, è molto diverso quando gioca le partite, quindi non vedo l'ora che si comincia. L'ho seguita le ragazze che erano all'Europeo, quindi sono state veramente forti e bravi, quindi niente, mi piacerebbe a vederle il prossimo anno, quindi la seguirei un pochino di più. Un saluto ai tifosi neroverdi, non vedo l'ora di incontrarvi il prossimo anno, spero di vedervi prima possibile al campo e ci vediamo presto. Forza Sassuolo!